Io ho sentito una volta che piccole piante, animali che sono dentro. Voglio provare questa esperienza del mare, andare in fondo, voglio vedere tutte queste cose belle. Con l'Istituto Nautico abbiamo iniziato questo progetto perché al proprio interno ha dei giovani ragazzi migranti che hanno subito il trauma delle attraversate e quindi abbiamo pensato fosse utile per loro insieme ai loro compagni di scuola superare questo trauma facendogli proprio vivere l'esperienza dell'acqua attraverso il muoto ma soprattutto attraverso le immersioni. Tante persone hanno aiutato noi, voglio provare a aiutare le altre persone per la prossima volta. Grazie a tutti.